Il modo in cui chiami le cose è il modo in cui finisci per viverle. Quindi hai diritto di dare i nomi alle cose che devi vivere. Non faglieli dare dagli altri. È molto meglio scegliere tu che nome dare alla tua realtà, perché poi la abiti meglio. Questo racconto è la storia di una donna che sceglie i nomi del suo mondo.